Vieni a fare festa con noi, torna il Carnevale in piazza Sant'Agostino. Sabato 19 marzo dalle 16.30 alle 18.30, sfilata di maschere del Carnevale a Rettino dell'Orciolaia con i personaggi Disney e le maschere dei figli di Bocco. Ad aglietare la serata ci saranno Beppe, Marco e Roby. Una iniziativa in collaborazione con Confesercenti e Arezzo TV. Grazie a tutti.